Allora, chi era a Bacoli a vedere sta partita per noi ancora per il secondo anno consecutivo? Roberto Rosiello, ciao Roberto. Mario buonasera, ed ora Bacoli anche stamattina sotto un sole cosciente che non si poteva stare. Rifacendomi alla partita di prima dell'Arzanese penso che le idee del patos calcistico sono fermate ad Aversa perché a Bacoli è stata una partita veramente scialva come può dire il risultato 0-0 e ci siamo, devo dire, un po' annoiati, mi può confermare il direttore che è stato 0-0 senza occasioni, i tiri in porta, neanche sulle punte delle dita si contano. Comunque poi se vogliamo vedere le immagini che ci possono fare. E che vediamo a fare queste immagini? Io ho fatto una premessa. Ma scusate, tu hai detto che non è stato un tiri in porta, si può dire qua. Nello specchio della porta. Lui ha detto che abbiamo giocato male, ma mi fa dire... E facciamo vedere così, pensiamo, domenica prossima... Giustamente se abbiamo mandato un operatore, Sino e Bacoli, un inviato, qualcosa abbiamo... Ma poi forse la colpa è anche del direttore, ha preso un attaccante Marzullo che ricorda un poco Gigi Marzullo che faceva addormentare un po' tutta Italia. Penso che oggi il pubblico Bacolese... Vabbè ma noi stiamo scherzando un po' Non stiamo scherzando? Stiamo scherzando, vabbè, l'abbiamo. Non la vieni ad andare al mare con quella bella lista che c'è. Bene fatto. Certo, è bello. D'accordo. Vabbè, sono ancora le prime partite, il caldo ha fatto anche la sua, perché il sole era veramente tremendo. Noi che stiamo guardando la partita stiamo a terra. Figuriamoci i giocatori che devono correre dietro un pallone, le scusanti ci stanno. Comunque io so che posso scherzare con la società Sibilla Bacoli, perché sanno quanto io stimo la Sibilla e quanto io tifo per la Sibilla, perché la vorrei che... E lo puoi confermare. La Presidentessa è sempre tanto gentile con noi, infatti. È simpaticissima. Io ho fatto un intervento, una videotelefonata, una videointervista durante l'estate. È da vedere, ce l'ho ancora su YouTube, ma è tutto quanto da ascoltare. Che è veramente simpaticissima. Allora ci fai vedere le immagini? Vediamole. Qua se la regia ci può dare una mano. Ecco qua le due squadre che scendono in campo. Tenuta bianco-azzurra per la strea e tenuta rossa per la Sibilla Bacoli. Che inizialmente schiera un 4-3-3 con Citro punta centrale e Manzo e Marzullo che lo appoggiano. Però come vedremo poi, caro Annante, durante il corso del primo tempo cambierà un po' le cose. Ci vuole un quarto d'ora per vedere il primo tiro a porta che viene effettuato una punizione del bomber Tommaso Manzo. Ma Longobardi dice di no. Calcio d'angolo susseguente e Marzullo alza un po' con la mira. Niente di fatto. Ma la strea si affaccia timidamente dalle parti di Alcolino. Ed è Gaeta in una bella azione che ci prova ma Alcolino riesce a dirgli no una volta e poi è Marauci a mettere in angolo. Ma è la Sibilla che si fa vedere. Una bella azione della premiata ditta Manzo-Marzullo che però quest'ultimo spreca malamente. La palla è troppo alta e la disperazione del numero 11 campano. Ma Marzullo ci prova ancora sul finale del primo tempo ma strozza troppo il tiro e la palla esce a lato. Questo è il fine del primo tempo. Come dicevo prima uno scialbo 0-0 ma la ripresa purtroppo non darà molti sussulti. Ma è la strea che parte subito forte al primo minuto e Gaeta mette una bella palla in mezzo ma Rainone anticipa di un soffio di Iorio che stava pronto là per mettere l'1-0 dentro. Viglietti ancora non ha preso le misure a Gaeta che mette un'altra volta la palla in mezzo. Alcolino fa una mezza papera e Bosi purtroppo non ne sa approfittare. La palla va sul fondo. Disperazione per l'attaccante della strea. Ed ecco qua un reclamo timido da parte della Sibilla ed è Rainone che mette in mezzo e Lello Posiello cade a terra. Come dicevo timido reclamo poi il bravo Gargiulo ci dirà se è il rigore o meno. Ancora una bella azione Manzo Marzullo questa volta prende bene la mira ma purtroppo è Longobardi a dire di no al bravo attaccante Bacolese. Qua ci sta un episodio che potrebbe segnare la partita l'espulsione di Sanibale il difensore centrale della strea però purtroppo la Sibilla non ne sa approfittare e il tutto si riduce a un bel tiro di Sibilli migliore in campo che si va a spegnere sul palo. Come ogni partita del genere ci stava anche la beffa finale. Remedi appena è entrato in campo ci prova. Il cuore dei tifosi bacolesi sale in gola però fortunatamente la palla si alza sopra la traversa. 0-0 tutti a casa. Secondo pareggio per la squadra bacolese. Chi vivrà vedrà. Speriamo che la Sibilla si possa trovare avanti. I risultati non sono mai negativi. Sono frutti delle nostre prestazioni. E quindi non è un risultato negativo. È un risultato che noi ci siamo guadagnati sul campo giocando male. Quindi è un risultato positivo da un certo punto di vista. Abbiamo giocato male. Stiamo soffrendo un po' il caldo che ci sta un po' danneggiando. Però abbiamo giocato male. Molta gente ferma. Dobbiamo rivedere. Però siamo agli inizi. C'è tutto il tempo per poter recuperare. Per poter eventualmente opporre delle modifiche a quelle che è poi il nostro gioco. Chiaramente oggi abbiamo trovato grandi difficoltà in tutti i sensi. Abbiamo creato poco. E quel poco che abbiamo creato l'abbiamo sprecato. Mister, l'iniziale con Citro vuol dire che lei ha bisogno di una prima punta? Oppure può giocare tranquillamente con il trio Sibilli-Manzo-Marzullo? Nel calcio non c'è bisogno mai di niente e di nessuno. Si gioca con l'organico che si ha. Si gioca con un certo tipo di gioco. Oggi avevamo delle difficoltà di corsa. Poteva giocare pure Van Basten lì davanti. Ma noi non abbiamo creato palle per Van Basten. Quindi se tu crei puoi concretizzare. Se tu non crei non concretizzi niente. Quindi non è il modulo che cambia la partita. Cambia la partita la corsa, la voglia di arrivare sul pallone. Quello cambia la partita. Loro hanno corso di più, hanno avuto più voglia e hanno portato al caso il risultato che volevano. Noi dobbiamo fare mia colpa. Dobbiamo dare atto a questa squadra che è venuta per difendersi con umiltà. Ha giocato pallone su pallone. Noi abbiamo giocato da fermo, su palle nei piedi. Poco movimento. Quindi buonanotte alla tattica e alla tecnica.